Lo stato prestabilito di Demetos Demir e Sukru Osildiz dice, questa tattica funziona, i fan di Demetos Demir e Sukru Osildiz stanno aspettando da molto tempo e le riprese del progetto Netflix, Ask Tacticleri, sono iniziate alla fine di giugno. Demetos Demir è tornata allo stile della commedia romantica a cui era già abituata dopo il suo ruolo drammatico nella serie tv, Dog Giuganev Caderindia. Sukru Osildiz, che interpreta un supereroe nella serie tv a Kinci, non è estraneo alla commedia romantica. I due non erano mai stati in un progetto insieme prima, né si erano nemmeno incontrati. Tuttavia, i fan dei due nomi famosi erano abbastanza sicuri che il duo sarebbe andato bene. Ancor prima che iniziassero le riprese, i fan hanno portato fianco a fianco le foto dei due nomi e hanno condiviso migliaia di condivisioni, creando interazione sui social. La coppia Demetos Demir e Sukru Osildiz non ha ingannato i loro fan. Nella condivisione della coppia dal set del film, si nota che l'attrazione positiva tra loro è che vanno molto d'accordo. Questa condivisione della coppia Osdemir e Osildiz, che hanno condiviso le loro foto di guardare attraverso la finestra del trailer taggandosi a vicenda, ha entusiasmato i fan. Gli attori che hanno dato vita ai personaggi di Asli e Kerem nel film, Ask Tactic Larry, hanno già fatto dire alla gente, questa tattica funziona. È anche chiaro che il duo, che spesso condivide con i propri compagni di squadra dal set, ha trascorso dei piacevoli momenti insieme.